Buonasera, sono Giuseppe Seramanna, stiamo qua a Galatone dalla Rolli SRL vi presentiamo la prima pompa magneti permanenti raffreddata ad aria, si chiama Mach 450 il Mach 450 indica la potenza in Watt assorbita dalla pompa, fa 4 metri cubi e mezzo massimo e 4 bar l'importanza del raffreddamento ad aria, l'acqua viene aspirata dalla pompa che può aspirare fino a 6 metri e direttamente mandata via senza passare dal motore il motore di questa pompa è un nuovissimo motore a magneti permanenti come quello delle autovetture testa questo è molto importante perché essendo un motore a magneti permanenti dotato di forti calamite se l'acqua fosse carica di polvere di ferro e residui ferrosi si attaccherebbero al motore ci sono state altre sperimentazioni con diversi problemi allora che la leopompe ha inventato appunto la soluzione magneti permanenti raffreddata ad aria abbiamo i raccordi rinforzati in ottone, l'aspirazione è mandata, un comodissimo pannello di controllo su questo pannello di controllo abbiamo il doppio manometro uno che ci indica la pressione impianto e l'altro che ci indica la pressione che noi vogliamo realizzare come pressione costante abbiamo un display dove nel momento che la pompa è in funzione questo qua ruota col più o meno insettiamo la pressione che vogliamo in casa e abbiamo anche l'interruttore possiamo anche bloccare questo pannello di controllo per evitare che qualcuno possa variare la pressione noi siamo qua a Galapone dalla Rolli dove è disponibile questo prodotto qua vi aspettiamo fino alle 19 di oggi per riuscire il prodotto di persona lo più importante è il fatto di questa bellissima colorazione di arco ghiaccio che ci permette in esterna di non riportare tutta la parte motrice all'interno di un'abitazione, di una cucina di rientrare a far parte dell'allargamento della cucina stessa per qualsiasi informazione contattateci, vi saluto grazie